Buonasera amici della Mondo Fut al tifosito collegati dal Muzzi di Aprile per la prossima giornata di calcio 5 Under 21, oggi si sfideranno Eagles Aprilia contro United, derby tutto apriliano che inizia qui la sfida con l'Eagles in postasso di fata, quindi mandano in contropiede lo United con il numero 10, adesso anticipa la conclusione e salva tutto Cirilli, allora pallone dietro per Rosina, direttamente la conclusione e da un passo non riesce ad andare al tap in vincente, vediamo, si ha uno schermo pallone dentro Spinelli chiuso ancora, si rimane lì Spinelli, fa il violetto e che grande intervento da parte di Torre, fa pressare adesso alto sicuramente Eagles, aggaccia comunque la sfera a Leonardo, Leonardo la conclusione e arriva il vantaggio dello United proprio con Leonardo, trafigge sulla sinistra Torre, sarà adesso Eagles di Iorio, chiuso bene da Leonardo, quindi ancora il contropiede per Eagles, Montenero, ancora Leonardo sulla destra Leonardo e salva tutto da Iello, va a liberare il destra, alla fine serve Pucet, di Iorio passaggio in trale, chiude tutto Rosina, adesso il contropiede, in linea di rigore, Macheta, Macheta la conclusione è ancora Torre, a dire di no per i uomini di Serpiedi, adesso pallone dietro Leonardo, la conclusione è ancora Torre, mette centrale ancora per Macheta che aggancia la sfera Macheta, poi serve Rosina sulla destra Rosina, conclude il pallone che si billa il palo, non c'è connessione e allora Torre fa scusare lo spazio di Iorio, torna Iero male per la Rosina e la di rigore viene battuta in questo istante da Tagliello, quindi di Iorio dalla distanza e la respinta da parte di Cirilli, si rimane lì, Leonardo sulla destra, Leonardo va via con una buona giocata, sempre su di Iorio, Leonardo la conclusione, non è che termina l'esterno della rete, da Violetto, Violetto sfida ancora di Iorio, Violetto va via ancora lui, la di conquista avrà di Iorio, di Iorio sulla destra, Iorio, la conclusione Cirilli, citato sempre a Tagliello, si muove in altri rigori a Lotti, la loro sponda, quindi Bucet da dietro, la conclusione, ed eccolo qui, il pareggio ballito, proprio con Bucet, dalla lunga distanza, trafigge Cirilli sulla sinistra, ed è 1-1, fischia adesso, parte la rincorsa ma che è la conclusione, Bucet, per lo che rimane lì, ed è 2-1, con Salmeri, ritorna in vantaggio la United, ha sfruttato il rimpallo, ed è stato lesto a buttarla dentro il difensore centrale della United, andrà Bucet, Bucet contro Cirilli, parte adesso Bucet, Cirilli, con il piede, che ha fallito però, ancora adesso può andare in contropiede, lo United, messo il giugno diretto, si continua a giocare, Leonardo, 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 Bucet, Leonardo, Leonardo, e forse l'ha messa in cassaforte, il numero 7 dello United, Leonardo, 3-1, Spinaci, arriva qui il fisco finale, il derby è tutto dello United, finisce 3-1, grande partita comunque, grandi complimenti a tutte e due le squadre, per oggi è tutto, dal Palameucci, appuntamento al prossimo match, saluto da Emanuele Tegon e Valerio Di Prospero da Mondo Fruzzati.